bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft ita oggi sono qui con chi è? chi è lui? non so chi è lui è il mio papino guardateli è il mio papino allora la schermata che vedete sopra è la mia e quella che vedete sotto è la visuale è la visuale di gioco del papà quella sotto e quella sopra è la mia visuale di gioco di ammazzo perchè io voglio ammazzare eh si allora ragazzi come vedete ho delle ender pearl si ho anche le ender pearl perchè ho ammazzato un paio di enderman ma perchè non mi si rigenera la vita ragazzi? perchè non mi si rigenera la vita? perchè? io non capisco ragazzi forse devo fare così ah ok eh eh se no non si rigenerava mi sa eh ok allora ti do una spada vediamo se ce l'ho eh si ragazzi mi sono tolto l'armatura allora ho eh costruito anche una mini farmettina di eh dove stai andando tu? come boh vieni qua che ti do un'armatura almeno qui qualcosa un calcosina l'altro qui un'incudine perchè dovevo piazzarla di qua sono andato qui proprio per piazzare un'incudine e per dare l'armatura al papino se viene per piacere e per piacere mi ti teletrasporto perchè tu non sei capace di fare niente allora tieni questo questo qui poi vai questo ma indossa lì però ok ok adesso sei bello guardato con una bellissima armatura però devo darti anche una spada quindi vabbè te la do dopo una spada nel caso vieni qui che te la do vieni apriti bottola eh vieni scusami dai su va bene ti teletrasporto quando arrivo no stai lì chiudi la bottola chiudi stai lì ti teletrasporto un po' freddo allora in teoria qui abbiamo una spada qua si è di ferro però piuttosto che niente allora vieni qua top vieni una spadina proprio giusto per allora ragazzi adesso andiamo praticamente nella miniera vieni qui qua vieni qua qui vieni qui nooo guarda attenzione trasporto perchè tu non basta picchiarmi no no assolutamente no non ho spizzato niente eh no chi allora papà allora andiamo facciamo un episodio di mining questa qui non è la live che vi ho promesso non è neanche ancora la live ma la live sarà insomma in questi episodi quindi per esempio episodio 15 magari se capita può essere episodio 14 oppure episodio non so 20 magari che cavolo ne so poi episodio 30 o qualcosa così andremo a uccidere l'endredragon sempre in compagnia del mio amico allora ho chiesto a perderti cioè scusami di ritornare al tunnel perchè mi sono dimenticato che dovevamo andare da un'altra parte occhio che cavolo vieni qua tu vieni qui stai di fermo che ti ah vieni qui vieni qua devo portarmi un secchio d'acqua portata di mano qui nell'inventario rapido per proprio per ehm per lui cioè ah no scusami non è di qui ma è di là ancora è tipo dov'è ehm qua qui ok no ritorna lì in qua in qui nooo torna dentro lì non nel buco lì vai avanti vieni qua io ho visto il trasporto ciao nooo mi sono baggato mi stavo baggando in un blocco uso l'endro portanto ce ne ho miliardi infiniti tipo oh e ancora mi stavo rischiato di 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 essere dentro il blocco precisamente allora allora sei spaventato sei spaventato sei spaventato abbiamo già perso cinque minuti per colpa tua cinque minuti abbiamo già perso questo episodio si chiamerà non abbiamo fatto niente niente molto probabilmente lo cancellerò abbiamo se non troviamo i diamanti praticamente cioè non so cosa fare dopo se non troviamo i diamanti quindi ragazzi vi lascio finchè non troviamo i diamanti e ciao a dopo ebbene ragazzi abbiamo trovato i diamanti di diamond ho anche finito il cibo io incredibile no no non scavarli tu no stai 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 allora mamma mia quanti cavolo ce ne sono fammi vedere qui qua cioè quanti cavolo ce ne sono i diamanti iiii iiii allora ragazzi eh perlomeno non ho il piccone con fortuna ragazzi ehm vabbè andiamo a prendere il piccone con fortuna ragazzi state qui ciao ok ragazzi eccoci abbiamo messo un'eternità per prendere il piccone ci abbiamo messo ma però l'abbiamo preso allora qui sotto non ci dovrebbe essere niente ma partiamo con lo scavo via ragazzi vediamo quanti diamanti è fortuna 3 quindi 25 diamanti ragazzi ma di che cosa stiamo parlando eh di che cosa eh boom di che cosa stiamo parlando iiii iiii ah ciao ciao un altro incudine so ragazzi sapete perchè c'è un incudine perchè l'ho preso su da casa perchè mancava un inchant e cioè mancava un inchant mancava indistruttibilità sul piccone allora ho preso su un incudine l'ho piazzata e allora è così e allora è così ho piazzato un incudine e c'è un libro con indistruttibilità centomila tipo allora per ritornare a casa ragazzi dai smettila che non lo uccido ehm per ritornare a casa si va alla vecchia maniera quindi vieni qui sotto che moriamo affogati con me vicino a me ecco se no ci uccidiamo a vicenda qui qui eh però io come faccio un mail adesso ehm ah beh il teletrasporto verso di te vabbè si beh tra l'altro ragazzi ehm se vedete qui qua c'è ancora il coso quello la che credevo che era di aerobrine cioè che credevo ma che secondo me è proprio di aerobrine di aerobrine qua c'è ancora qui eh guardate c'è ancora aerobrine con il libro ancora scritto allora vediamo se sta andando la farm di poli poi tra l'altro ragazzi dovrò distruggere la farm di mucche perchè non funziona più ma per questo episodio ma son cretino c'avevo le patate nell'inventario son cretino ah ehm benissimo mi ha fatto esplodere un creeper un creeper mi ha esploso addosso va bene ragazzi per questo video è tutto se vi è piaciuto lasciate un like commentate condividete iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella e le notifiche alla prossima è tutto e ci vediamo al prossimo video bye bye